Oggi andremo a parlare del macaone, una tra le più grandi farfalle d'Europa. La particolarità dei macaoni è l'estrazione di due corna color arancione, come potete vedere nel video, se minacciati, sia da predatori sia dai suoi simili. Nel frattempo i giorni passano, i bruchi mutano e si nutrono. I colori cambiano, diventano più nitidi e più dettagliati, il tutto per prepararsi all'evento più importante nella loro vita, la metamorfosi. Qui potete vedere una delle prime fasi della metamorfosi, ovvero la creazione del bozzolo, fatto dalla seta autoprodotta che lo terrà protetto durante queste importanti fasi. Potete vedere la prima farfalla uscita dal suo bozzolo. Ora proverò a vedere se ha bisogno di nutrienti e dopodiché la andrò a liberare. Una volta che esce dal bozzolo, la farfalla incomincia a pompare nelle ali la propria rinfa per poterla distendere in quanto nel bozzolo sono tutte cartocciote. Come vedete potrebbe essere anche pronta a volare, visto che le state istendendo. Vediamo. Viaggia ancora insicura sulle sue ali, perciò andremo a liberarla domani mattina. Come vedete il macavone è una bellissima farfalla. E ora, dopo averla fatto riscaldare al sole, perché è molto importante farla riscaldare prima, la lasciamo libera. Grazie.